Sindaci della provincia riuniti questa mattina, oggetto covid non poteva essere altrimenti, lei che li rappresenta un po' tutti, quali sono le istanze principali? Ovviamente la richiesta di aiuto allo Stato per i controlli sul territorio. Dobbiamo riorganizzarci, il prefetto ha organizzato questo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per creare di nuovo una sinergia un po' più fattiva, una sinergia più forte sul territorio provinciale. Ci sono qui i sindaci dei comuni principali, il presidente della provincia, il questore, il guardia di finanza. Cercheremo di mettere in campo un'attività programmata di controlli per fare in modo che si possa man mano con questa attività ridurre il pericolo di contagio. Il presidente De Luca, come sapete, è stato a Roma, al Ministero e ha chiesto interventi seri. Abbiamo bisogno anche di risorse, un po' come nella prima fase dell'emergenza, per attivare tramite le nostre polizie municipali. Anche la polizia provinciale cercherà di dare una mano, come è già fatto nei mesi scorsi, però è chiaro che c'è bisogno di risorse. Se ci si chiede di controllare gli esercizi commerciali che rispettino l'ordinanza del presidente De Luca, è chiaro che dovrà essere proseguita l'attività dei vigili urbani, della polizia locale, anche oltre le fatidiche 21 ora serale nella quale si completano i turni. Quindi per arrivare a mezzanotte ci sarà bisogno di straordinario, ci sarà bisogno di risorse per assicurare una mappatura più efficace del territorio. Ovviamente il mio appello è principalmente ai cittadini tutti affinché collaborino, rispettino le indicazioni, le ordinanze, evitare assembramenti, portare la mascherina che è obbligatorio ormai durante tutta la giornata e anche all'aperto. Come istituzioni cercheremo di fare sempre tutto il possibile, come è già fatto in questa, purtroppo, prima fase dell'epidemia che sta purtroppo ancora, diciamo adesso, ritornando e dobbiamo fronteggiarla con tutti i mezzi che abbiamo.